Presidente Torchia, da questa mattina l'interruzione idrica, perché? Si è avuta un'interruzione venerdì e è saltato un tubo subito dopo la vasca di Calusia, in comune di Belvedere Spinello, e abbiamo predisposto un intervento non immediato, perché siamo comunque riusciti a fornire fino ad oggi, fino stamattina, fino alle 10, che è l'orario di chiusù, è l'orario previsto per chiudere la condotta, le paratoie della vasca di Calusia, siamo riusciti a fornire l'acqua alla città, però adesso è necessario comunque intervenire per porre riparo a questa perdita e abbiamo avvisato tutti gli enti interessati per cercare, nel limite del possibile, di diminuire tutti i disagi che una cosa del genere può provocare. Noi chiuderemo l'acqua appunto stamattina alle 10 e si procederà allo svuotamento della condotta, operazione necessaria, propedeutica alla riparazione, dopodiché anche con pompe idrovore e con, si spera che già nell'alba diciamo del lunedì si può intervenire con la riparazione, con la saldatura nel pozzetto e poi procedere una volta riparata alla riapertura graduale dell'acqua e quindi al ritorno alla normalità. Il problema è sempre lo stesso, molti cittadini si lamentano perché chiaramente non hanno in casa le cisterne, i serbatoi e quindi rimangono senza acqua. Quanto durerà questa interruzione? Allora come ho detto da stamane sarà chiusa, noi crediamo se tutto va bene senza imprevisti che per il martedì si riuscirà ad avere nuovamente il ritorno alla normalità. Il problema dell'acqua riguarda tutta la nostra provincia, abbiamo problemi gravi anche ad isola in questi giorni dove il motivo per cui il lago di Sant'Anne è a un basso livello non consente un'acqua che sia nelle migliori condizioni per essere potabilizzata perché vi è la presenza di sabbia e quindi questo sta comportando anche problemi perché questo porta problemi perché noi quando Crotone è mai senza acqua prendiamo l'acqua anche dal lago di Sant'Anne in soccorso per la città. Allora questa è l'ulteriore prova, se ce ne fosse bisogno, della necessità di innanzitutto creare un osservatorio, io l'ho già proposto recentemente, un osservatorio sulle criticità, innanzitutto affinché tutti abbiano la consapevolezza, tutti coloro che hanno delle responsabilità di governance sia provinciali che comunali e anche oltre per creare delle priorità di intervento e soprattutto per avere la forza e la capacità di candidarsi nel momento in cui ci siano bandi e finanziamenti di opere per poter risolvere il nostro problema.